Il ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, nelle comunicazioni alla Camera sugli investimenti del PNRR si è detto soddisfatto del via libera dell'Unione Europea. Basta polemiche, non ci sono tagli, andiamo avanti con i progetti. Entro il 2023 riceveremo tutti i 35 miliardi di euro. Le parole del ministro, ma le opposizioni contestano la relazione di Fitto. Restano le tensioni tra maggioranza e opposizione sul taglio al reddito di cittadinanza per 169 mila famiglie. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Foti, accusa PD e 5 Stelle di volere il caos del paese. Il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Antonio De Caro, chiede che il governo, qualora ci siano problemi di tenuta sociale, faccia un passo indietro. Buone notizie sul fronte della disoccupazione che per il mese di giugno scende al 7,4%. Il numero degli occupati, sempre a giugno rispetto allo stesso mese del 2022, è in crescita dell'1,7%, 385 mila unità in più. Numeri incoraggianti rispetto a ieri con il dato della crescita italiana. Il riferimento è al PIL del secondo trimestre diminuito dello 0,3 rispetto al trimestre precedente. Ancora un attacco notturno di droni ucraini su Mosca, colpito lo stesso grattacielo centrato domenica scorsa. Per Kiev il Cremlino non è in grado di proteggere i residenti della capitale, simboleggia il fallimento dell'invasione russa in Ucraina. L'esercito russo ha anche dichiarato di aver respinto un attacco contro le sue motovedette nel Mar Nero. La Francia ha deciso che oggi inizierà l'evacuazione dal Niger dei suoi connazionali dopo l'escalation della crisi del paese africano. Il piano resta però complesso perché lo spazio aereo nigerino risulta ancora chiuso. La Farnesina è pronta ad offrire agli italiani la possibilità di lasciare la capitale con un volo speciale, anche se l'ambasciata resterà aperta ed operativa. Potrebbe essere ad una svolta la trattativa tra Juventus e Chelsea per lo scambio di Vlaovic con Lukaku. Al momento restano le distanze tra domanda e offerta le due società, ma la volontà è quella di chiudere l'operazione. L'Inter ha offerto al West Ham 25 milioni di euro per Scamacca, mentre Ozymen è pronto a rinnovare con il Napoli. Buongiorno e benvenuti al Telegiornale della Sette. Allora cominciamo subito con l'economia perché, come avete già sentito dai titoli, questa mattina il Ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, ha riferito alla Camera sul PNRR. L'argomento naturalmente suscita parecchie problemiche e perplessità, per esempio tra i sindaci che si sono vissi nelle ultime ore e negli ultimi giorni sottrarre alcune risorse che ritenevano acquisite il Ministro Fitto, però nega, dice che non c'è alcun definanziamento. Entro il 2023 otterremo da Bruxelles tutti i soldi necessari, ma ci sono poi anche, lo vedremo nel servizio, le opposizioni. Proprio in questo momento sta parlando la segretaria del Partito Democratico, Ellie Schlein, e sta utilizzando parole dure nei confronti del governo di Giorgia Meloni. Dunque cominciamo da qui. La Commissione europea ha dato il via libera con un'approvazione alle proposte che il governo ha messo in campo, sia relativamente all'approvazione della terza rata con alcune modifiche, che relativamente alle modifiche proposte della quarta rata. Un lavoro che ha portato, e ne sono molto soddisfatto, ad un apprezzamento anche pubblico da parte di tutti gli esponenti della Commissione europea. Il Ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, nelle comunicazioni alla Camera sulla revisione complessiva degli investimenti del PNRR, rivendica il lavoro svolto dall'esecutivo, sottolineando il via libera alle modifiche di 144 misure su 298, e rivolgendosi alle opposizioni dice «Non considero positiva la costruzione di una polemica su questi obiettivi. Entro il 2023 riceveremo tutti i 35 miliardi». Anche sulla governance del PNRR, oggetto di polemiche più volte ricorda, Fitto attacca le sinistre. La Commissione europea non ha mai sollevato nessun problema sull'organizzazione del lavoro. Nega Italia gli asili nido. Ci sono 900 milioni aggiuntivi, ci siamo trovati in questa situazione perché i bandi sono stati aperti più volte procurando un ritardo. Mentre sulla rimodulazione delle risorse per il dissesto idrogeologico, altro tema al centro di aspre polemiche, la proposta di intesa con la Commissione europea, dice Fitto, verrà valutata alla luce della nomina del commissario. Al fianco del Ministro la maggioranza, che chiede all'esecutivo, si legge nella risoluzione presentata, il pieno coinvolgimento del Parlamento lo sollecita a salvaguardare gli interventi esclusi dal PNRR, utilizzando altre fonti di finanziamento nazionali disponibili, come i fondi strutturali e il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. I soldi si troveranno per tutto, assicura Donzelli, di Fratelli d'Italia. Il PNRR lo stanno modificando in tutta Europa. Le opposizioni contestano la ricostruzione del governo che smentisce i tagli e accusa nel Ministro Fitto di non entrare ancora una volta nel merito e di non spiegare. Per il Movimento questo governo sta mettendo a rischio la piena attuazione del piano solo per la sua arroganza e l'incapacità di aprirsi al confronto col Parlamento. Alessandro Alfieri, responsabile riforme PNRR nella segreteria del Partito Democratico, chiede invece al governo di fermarsi sulle modifiche sul dissesto. Un taglio di 13 miliardi, un vero e proprio scippo ai comuni, come sostenuto dal sindaco di Bari De Caro, sempre PD, e a capo del Lanci. Ci dovete spiegare che cosa avete contro i comuni. No, perché è incredibile che tagliate le risorse a chi le sta già spendendo in fretta e bene. State scaricando tutto sui comuni. Tende una mano all'esecutivo Italia Viva, con Maratin. Non sembrate in grado di gestire queste risorse, dice all'esecutivo, ma noi ci siamo per discutere nel merito, perché il PNRR non è in materia di lotta politica, ma è l'ultima chance che questo Paese ha di mettere mano ai nodi che da decenni ne frenano la produttività. Ecco, come avete già sentito nel nostro servizio, la segretaria del PD, Alice Schlein, ha utilizzato parole molto dure nei confronti del Governo. Poco fa ha detto che il Parlamento è stato esautorato, non basta una comunicazione d'ufficio come quella di oggi, ma come è previsto una discussione e un voto preventivo alla Camera. Ci avete messo dieci mesi per decidere la cancellazione di progetti per 16 miliardi. Schlein però si vuole anche costruttiva, dice che siamo preoccupati per il Paese, c'è il sospetto che siate incapaci di gestirlo, ma qualcuno ci dia un segnale. Se cambiate, noi ci siamo. Ora passiamo al tema del lavoro, questi fondi, queste risorse del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che arrivano da Bruxelles, sono davvero importanti, fondamentali per la crescita e dunque per la creazione di nuovi posti di lavoro. Ecco dunque un altro tema fortemente divisivo del dibattito politico di queste ore, è il reddito di cittadinanza. Come è noto, il Governo ha deciso parzialmente di cancellare questa forma di sussidio. Tante sono anche qui le perplessità, soprattutto tra chi, per esempio, alcuni cittadini che in queste ore protestano, soprattutto nel Sud Italia, economicamente depresso, perché si sono viste sottrarre queste risorse che, insomma, erano fondamentali per andare avanti. Vediamo. Muro contro muro, tra maggioranza e opposizione, scontro aperto sul taglio del reddito di cittadinanza operativo da questa mattina. Insiste il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, che accusa PD e 5 Stelle di essere fortemente impegnati a far esplodere una situazione di caos nel Paese. Foti ribadisce che sul reddito non si torna indietro e costato 30 miliardi in 5 anni senza raggiungere lo scopo di accompagnamento al lavoro, spiega al deputato di Fratelli d'Italia che integra le accuse contro l'ex presidente dell'Inps Tridico. Si è triplicato lo stipendio la sua risposta al Corriere della Sera sull'annuncio dell'apertura di una commissione d'inchiesta per verificare se Tridico ha favorito il Movimento 5 Stelle evitando volutamente controlli sui percettori del reddito. Sono un professore universitario, non ho scheletri nell'armadio, potrei denunciare per diffamazione queste persone che pensano di tutelarsi dietro il loro mandato parlamentare per accusare liberi cittadini la risposta dell'ex presidente dell'Inps. Il governo sta soffiando sul disagio di tanti ma il problema non sono certo i cittadini che protestano, le opposizioni o i sindaci che chiedono aiuto. Interviene Chiara Appendino, deputata di 5 Stelle, che al governo chiede di convocare al più presto un Consiglio dei Ministri per ritirare la misura. Messaggio condiviso da De Caro, sindaco di Bari, presidente dell'Associazione dei Comuni. Mi auguro che se dovessero esserci problemi di tenuta sociale per evitare fratture dal punto di vista sociale nelle nostre comunità, mi auguro che il governo faccia un passo indietro. Ci mobiliteremo con gli altri primi cittadini in troppi versano in condizioni di povertà assoluta, rilancia anche il sindaco PD di Bergamo, Giorgio Gori. Ci sono persone escluse dai parametri che potranno soffruire di una indennità di 350 euro per 12 mesi subordinata alla frequentazione di fantomatici corsi di formazione l'accusa ancora di Gori. Numero di cittadini senza reddito di cittadinanza destinata ad aumentare a fine agosto. Scadranno i sette mesi per altri 80.000 percettori. Di poco fa la notizia è che giovedì il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elvira Calderone, terrà un'informativa nell'Aula del Senato. Questo lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Abbiamo chiesto, ottenuto l'informativa sull'assenza di comunicazioni preventive, sulla cancellazione del reddito di cittadinanza e sull'assegno unico. Lo ha detto al termine della riunione il Presidente del gruppo del Partito Democratico a Palazza Madama, Francesco Boccia. Ora andiamo avanti con l'economia. Nel mese di giugno abbiamo già parlato del lavoro. Nel mese di giugno l'Istat ci dice, certifica che la disoccupazione è leggermente diminuita. Naturalmente si tratta di un dato relativo, non particolarmente significativo, però è auspicabile che si consolidi nel futuro. Infatti il lavoro resta il tema probabilmente più urgente nel nostro Paese. In Italia a giugno prosegue l'aumento degli occupati e parallelamente si riducono sia i disoccupati che gli inattivi. A documentarlo, ancora una volta, è l'Istituto Nazionale di Statistica che calcola in 82.000 unità in più rispetto al mese prima e in 385.000 in più rispetto al giugno del 2022 gli uomini e le donne dipendenti di tutte le classi di età che abbiano un lavoro. Sale quindi al 61,5% il tasso di occupazione complessivo con un aumento dello 0,2 su base mensile e dell'1,7% su base annua. Il dato più significativo è che a trainare l'occupazione siano soprattutto i contratti a tempo indeterminato che, sommati agli autonomi, compensano ampiamente la diminuzione dei contratti a termine. Scende anche la disoccupazione, sia globale che giovanile, rispettivamente al 7,4% in calo dello 0,2 e al 21,3% in discesa dello 0,4. Diminuiscono di 43.000 unità gli inattivi, persone in età compresa tra i 15 e i 64 anni che non rientrano né tra gli occupati né tra i disoccupati. A giugno, registra l'Istat, sono il 33,5% in calo dello 0,1. Restano invariati per il terzo mese consecutivo i tassi di disoccupazione rilevati da Eurostat nell'Eurozona al 6,4% e nell'Unione Europea al 5,9% mentre rispetto al giugno 2022 erano al 6,7% nei 20 stati a moneta unica e al 6,1% nei 27 dell'Unione. In lieve flessione la disoccupazione giovanile che nell'Eurozona passa dal 14 di maggio al 13,8% di giugno. L'Italia a giugno continua a essere tra le peggiori alle spalle di Spagna, 27,4% e Grecia, 23,6%. Da segnalare anche la Germania che a luglio vede salire dello 0,2% rispetto a giugno la disoccupazione, ora al 5,7%. Tutto questo a 24 ore dai dati che raccontano di un'Italia in crescita nel secondo trimestre dello 0,6% su base annua ma che rallenta dello 0,3% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Frena ancora l'inflazione dal 6,4% di giugno al 6% di luglio grazie soprattutto al calo dei prezzi dell'energia ma per gli economisti la mancata messa a terra delle numerose riforme inserite nel piano nazionale di ripresa e resilienza sarebbe una tra le maggiori cause del rallentamento della crescita nazionale. Sebbene tutti i dati dell'inflazione riportino un costante calo purtroppo ancora troppo lento dei prezzi al consumo ci sono dei beni che costano troppo rispetto a quello che sono le entrate delle famiglie italiane pensiamo per esempio ai beni alimentari e poi c'è il caro benzina che periodicamente, soprattutto durante le ferie estive subisce dei picchi ecco allora che ci sono quelle famiglie che anche in difficoltà hanno cercato di ritagliarsi una finestra per andare in vacanza e che poi prendono l'automobile in autostrada scoprono che un litro di carburante può superare anche i 2 euro vediamo Da oggi prima di fare benzina sarà bene aguzzare la vista da questa mattina i distributori sono obbligati a disporre accanto ai prezzi praticati un cartello con i prezzi medi nazionali per le pompe in autostrada e con i costi medi regionali invece per quelle che si trovano sulla viabilità ordinaria dati consultabili anche sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la media nazionale del self-service in autostrada oggi è di 1,984 euro al litro per la benzina e di 1,854 euro al litro per il diesel a livello territoriale i prezzi più alti sono quelli della provincia autonoma di Bolzano e della Puglia sotto la soia di 1,9 invece le Marche e il Veneto nelle intenzioni del governo la nuova cartellonistica dovrebbe servire a calmirare la crescita dei prezzi e a favorire la trasparenza di tutt'altro parere i rappresentanti dei gestori che lamentano una palese violazione delle norme sulla concorrenza e hanno annunciato ricorso al Consiglio di Stato dopo che il Tar del Lazio aveva rispinto la richiesta di sospensiva urgente dell'obbligo i gestori che rischiano multe fino a 2.000 euro e la sospensione dell'attività in caso di recidiva ricordano che distributori e benzinai hanno un margine di manovra molto limitato oggi pomeriggio al Ministero delle Imprese è previsto un incontro per presentare alle associazioni un progetto complessivo di riordino della rete a cui si lavora da tempo ma dice il sottosegretario Massimo Bitonci sui carburanti l'allarmismo è esagerato già ieri il Ministro Urso aveva parlato di rincari medi settimanali di soli 4 centesimi dovuti all'aumento delle quotazioni internazionali di petrolio escludendo un nuovo sconto sulle accise ma come sono i prezzi italiani se raffrontati a quelli europei la Commissione Europea stila un bollettino settimanale l'ultimo consultabile però è quello del 24 luglio i prezzi al netto delle tasse in Italia non sono tra i più bassi ma nemmeno tra i più alti 799,5 al litro decisamente peggio dei 713 centesimi della Slovenia ma meglio degli oltre 852 di Germania gli 847 della Francia i 948 della Danimarca la situazione cambia un po' calcolando accise IVA e altre imposte indirette che lo ricordiamo incidono sul prezzo finale per circa il 58% il prezzo finale registrato per l'Italia che ha tra le accise più alte d'Europa è di 1,864 al litro oggi lo ricordiamo è salito a 1,984 al litro e supera buona parte dei paesi UE compresa la Francia ma fanno peggio di noi Grecia e Danimarca che tocca quasi i 2 euro al litro il costo della materia prima incide per il 30% e il prezzo finale dipende da decine di variabili comprese quelle geopolitiche ma come ovvio incide anche la legge più antica del mercato quella della domanda e dell'offerta in Ucraina negli ultimi giorni il bilancio delle vittime civili è particolarmente severo donne uomini e anche bambini questa mattina un medico un giovane medico di un ospedale è stato colpito e ucciso dalle bombe russe mentre una infermiera ferita anch'essa nello medesimo attentato è ora in condizioni gravissime alcuni loro colleghi medici appunto stanno cercando di salvarle la vita tutto questo mentre a Mosca continuano a piovere droni non ancora ben identificati sul quartiere finanziario da simbolo del successo economico russo a simbolo della sconfitta di Mosca così Kiev commenta l'attacco della notte scorsa il secondo in pochi giorni con droni ucraini ai grattacieli della Siti Moscovita sede di uffici centro finanziario della Russia moderna non ci sono state vittime attacchi come questo non sono paragonabili ad esempio a quello sferrato nelle stesse ore su Kharkiv nell'Ucraina nord orientale le cui conseguenze sono ben visibili in queste immagini ma dal punto di vista simbolico è un colpo per il cremino così come la chiusura per alcune ore sempre la notte scorsa dell'aeroporto internazionale di Vnukovo a Mosca con tutti gli aerei in arrivo in partenza dirottati su altri scali che dà il senso delle parole usate dal presidente ucraino Zelensky la guerra sta entrando sempre più a fondo sul territorio della federazione russa dove i droni ucraini diversi quelli intercettati nelle ultime ore sui cieli di Mosca sembrano bucare con facilità le difese russe il ministero della difesa di Mosca ha denunciato anche l'attacco fallito di droni sempre ucraini contro navi di pattuglia nel Mar Nero Zelensky attacca la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova sta compromettendo gli Stati Uniti effettuando attacchi terroristici contro infrastrutture civili in Russia quello che accade in Ucraina da un anno e mezzo ieri in quella che sembrerebbe una risposta diretta di Vladimir Putin alla nuova strategia offensiva di Zelensky a Kriviri la città natale del presidente ucraino è stato colpito un condominio tra le vittime conferma oggi l'Unicef ci sono anche dei bambini 80 i feriti almeno 6 i morti l'allarme antiaereo è scattato nelle prime ore di oggi in 5 regioni ucraine tra gli altri negli oblast di Zaporizia Donetsk e come abbiamo visto a Kharkiv qui le forze russe hanno attaccato con droni kamikaze un dormitorio questo mentre il governo di Kiev annuncia di aver raggiunto un'intesa con la Croazia per tentare di esportare dai porti adriatici il grano bloccato nel paese dopo il ritiro della Russia dall'accordo per il transito nel Mar Nero secondo Kiev sono 180.000 finora le tonnellate di grano distrutte dai bombardamenti di Mosca e secondo Kiev c'è anche la lunga mano di Mosca dietro al colpo di Stato al golpe in Niger naturalmente tutto questo è da dimostrare anche se non è di certo un mistero la presenza dei mercenari russi della Wagner nel paese così come in altri scenari africani allora vediamo che cosa sta accadendo in Niger dove la situazione è sull'orlo del precipizio paesi come la Francia stanno evacuando i propri cittadini e anche l'Italia sta mettendo a disposizione dei voli speciali per gli italiani appunto la crisi in Niger preoccupa tutte le cancellerie occidentali e naturalmente anche l'Italia segue con estrema attenzione gli sviluppi della situazione nel paese africano sconvolto da un golpe militare che ha deposto e messo agli arresti domiciliari il presidente Mohamed Basum oltre ad alcuni ministri innanzitutto la Farnesina è impegnata a portare in salvo i connazionali interessati a lasciare il paese il governo ha deciso di offrire ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di partire con un volo speciale per l'Italia l'ambasciata resterà aperta e operativa anche per contribuire agli sforzi di mediazione in corso ha scritto su Twitter il ministro degli esteri Antonio Tajani mediazione che tuttavia per il momento non decolla i colpisti guidati dal generale Abdurrahmane Ciani non aprono a soluzioni pacifiche neppure di fronte ai leader dell'Africa occidentale che minacciano un intervento armato se l'ordine non dovesse essere ristabilito entro una settimana naturalmente anche la Francia ex potenza coloniale del Niger si muove sul campo a 1500 militari per contrastare le milizie jihadiste e difendere gli interessi transalpini in particolare nel settore dell'estrazione dell'uranio vitale per le centrali nucleari stamattina riunione al ministero degli esteri per preparare l'evacuazione di circa 600 francesi presenti il piano è complesso perché lo spazio aereo nigerino risulta ancora chiuso in ogni caso scatterà a breve l'operazione aperta anche a tutti gli altri cittadini europei interessati Parigi ha di nuovo chiesto il rilascio di Mohamed Mazoum ma ha smentito le accuse dei colpisti nigerini secondo cui la Francia starebbe preparando un intervento militare anche Macron lavora a una possibile mediazione così come l'Unione Europea contraria forzature e strappi anche nei confronti di Mosca che ieri ha mostrato moderazione dichiarandosi favorevole al ripristino dello stato di diritto in Niger e smentendo il capo della Wagner Prigojin da subito al fianco dei colpisti per cementare il ruolo strategico dei suoi mercenari in tutta la regione sahariana e subsahariana in Myanmar la giunta militare ha ridotto la pena da Hung Sansouci si tratta dunque solo di una riduzione della di una diminuzione della detenzione per l'attivista ed esponente politica birmana l'ex leader dell'opposizione era stata incarcerata nel 2021 in seguito al colpo di stato che l'aveva destituita Sansouci 78 anni premio Nobel per la pace deve scontare una pena totale di 33 anni per accuse quali corruzione e violazione delle restrizioni per il covid la grazia si riferisce a 5 delle 19 condanne a suo carico e potrebbe non bastare a garantirne il rilascio l'ex leader era stata tenuta in isolamento e ormai da oltre due anni non si avevano notizie certe sulle sue condizioni la giunta militare ha rinviato le elezioni che aveva promesso di indire entro fine anno ed ha prorogato lo stato di emergenza siamo arrivati ora dunque alle notizie sportive con il calciomercato molte le trattative in via di definizione su tutte un clamoroso scambio sull'asse Torino-Londra Vlaovic al Chelsea e Lukaku alla Juventus area di svolta nella trattativa che può portare il centroavanti belga a Torino dopo aver detto no al prestito gli inglesi hanno aperto allo scambio con il serbo sacrificato come contropartita per esigenze di bilancio la differenza di età tra i due attaccanti con il bianconero che ha sette anni meno dell'ex interista molto gradito ad Allegri spinge ovviamente a fare altre valutazioni i bianconeri vorrebbero un conguaglio tra i 40 e i 50 milioni giudicato però troppo alto dal club londinese al momento 15 distanza tra domanda e offerta ma un compromesso anche in tempi rapidi è più che possibile visto che l'affare risolverebbe un problema sia alla Juventus impegnata nel sistemare i conti sia al Chelsea dove da settimane Lukaku vive praticamente da separato in casa intanto la stessa Juventus è tornata a mettere gli occhi su Gigio Donnarumma un'idea o meglio una suggestione che per ora resta tale ma che potrebbe essere approfondita in caso di addio a Scesni il portiere polacco piace al Bayern Monaco e un suo eventuale trasferimento in Germania libererebbe lo svizzero Sommer per l'Inter che nelle ultime ore ha superato la Roma nella corsa a Scamacca il motivo è semplice la società giallorossa non può andare oltre la proposta di un prestito secco mentre i nerazzurri garantiscono al West Ham l'obbligo di riscatto da definire i termini dell'accordo con Marotta disposto a spendere complessivamente 30 milioni tra parte fissa e bonus frenata infine nel rinnovo di Osimen con il Napoli il prolungamento fino al 2027 a 7 milioni a stagione è pronto ma le parti restano lontane sulla cifra della clausola rescissoria De Laurentiis vuole fissarla a 160 milioni gli agenti del nigeriano spingono invece per contenerla tra i 110 e i 120 milioni la forbice è ampia e sullo sfondo c'è la rabbia saudita con l'Ali Lal deciso ad affondare il colpo promettendo 60 milioni al giocatore e 140 ai partenopei per il calcio femminile domani ai mondiali sfida decisiva per l'Italia contro il Sudafrica nella terza partita del giro le azzurre devono vincere per essere sicure del passaggio alla fase successiva un pareggio infatti potrebbe non bastare si gioca domani a Wellington il destino delle azzurre e contano tutti su di lei Cristiana Girelli la numero 10 che ha trascinato le compagne nella partita contro l'Argentina e che ora nella sfida con il Sudafrica proverà a portare a casa i tre punti necessari per la qualificazione agli ottavi domani un pareggio potrebbe non bastare perché se l'Argentina batte la Svezia a parità di punti vale la differenza rete l'Italia è svantaggio serve vincere quindi ma anche e soprattutto per il morale perché lo sappiamo l'aspetto psicologico non conta meno della condizione fisica e dopo la brutta sconfitta con la Svezia 5 a 0 la CT Bertolini deve cambiare registro puntando sull'esperienza per garantire una maggiore tenuta mentale in campo e scongiurare una debacle che sarebbe decisiva in attacco la soluzione sembra portata di mano con Girelli dal primo minuto e in difesa il reparto che più problemi ha dato nell'ultima partita la CT potrebbe schierare Elisa Bartoli tra i pali sostituire la Durante con Giuliani numero uno del Milan e titolare di lungo corso in azzurro domani dunque per le azzurre il mandato è vincere il match non solo per superare il turno ma soprattutto per non tradire la promessa della nazionale femminile che ha compiuto il grande passo verso il professionismo e andare avanti nella corsa al mondiale ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità ritorno vedremo se ci sono degli aggiornamenti a tra poco eccoci di nuovo qui allora in questi minuti non abbiamo degli aggiornamenti di rilievo da darvi dunque il nostro telegiornale si chiude così alle 14 e 3 minuti grazie ancora per essere stati con noi le notizie tornano con il telegiornale delle 20 poi c'è il tgla7.it dove troverete ogni aggiornamento e anche approfondimento grazie ancora arrivederci a domani grazie a tutti grazie a tutti